Pino dei Palazzi è un personaggio della mia infanzia difficile. Lui c'aveva il motorino, io no, non me lo compravano i miei il motorino perché dicevano che mi facevo male. Poi lui conquistava le donne anche, no? E io invece, insomma, mi piaceva una dei palazzi che lei amava molto gli animali e io, insomma, gli ho cantato questa canzone. Andavo sotto la sua finestra di lei e gli cantavo questa canzone qua, questa ragazza, una serenata d'amore. Miau, miau, miau. Miau, 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 mia